Da domani alle ore 11 si procederà all'apertura del Pozzo di Sant'Anna del Furlo, da cui saranno rilasciati 150 litri di acqua al secondo da immettere nel fiume Metauro. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alle risorse idriche Stefano Guzzi, dopo una riunione del Comitato Provinciale di Protezione Civile, incentrata sull'emergenza idrica in atto. All'incontro erano presenti anche le Ato, alcuni comuni, la Prefettura, la Provincia, il Ministero degli Interni, l'Azur e l'ARPA. Assessore, qual è la situazione nella nostra regione? La situazione è indubbiamente molto problematica, nel senso che vediamo qual è la situazione in generale e non sono neanche previste piogge da qui ai prossimi giorni, alle prossimissime settimane. Non è una situazione di emergenza ancora per l'idro potabile nel resto della regione, bensì il problema comincia ad esserci per l'uso agricolo, ovviamente lo si vede benissimo. Però adesso soffermiamoci un attimo su quella che è la nostra provincia. La nostra provincia sta soffrendo fortemente perché l'approvvigionamento idrico, idro potabile, quindi per l'uso domestico delle nostre case, avviene quasi totalmente dal fiume Metauro, nella provincia di Piesa Urbino. Il fiume Metauro comincia a risentire molto della mancanza di piogge, questo è indubbio. E quindi è stato deciso che da domani si aprirà il Pozzo di Sant'Anna? Allora, noi abbiamo già alcuni giorni fa redatto un'ordinanza che di fatto prevede il divieto di uso agricolo prelevando dal fiume Metauro, quando non si possono più fare prelievi per uso agricolo del fiume Metauro. Da qui ai prossimi giorni probabilmente richiederemo al governo anche lo stato d'emergenza, proprio anche per far fronte magari a una richiesta d'anni là dove ci fossero delle spese aggiuntive. Stamattina invece abbiamo emesso un decreto che prevede l'apertura del Pozzo di Sant'Anna, del Furlo, per mettere 150 litri al secondo di acqua nel fiume Metauro e far sì che l'invaso di Tavernella, da dove si preleva l'acqua per Fano e per Pesaro e la potabilizza, non si asciughi. Quindi abbiamo portato avanti questo tipo di attività. Marche Multiservizi preleva 600 litri al secondo dal fiume Metauro per portarla nei nostri rubinetti di casa. Fino ad ora il fiume aveva retto questi 600 litri, comincia a avere seri problemi, quindi noi ne immettiamo 150 litri al secondo dal Pozzo di Sant'Anna. Inoltre abbiamo diminuito l'uscita dalla diga di altri 200 litri, quindi siamo scesi del livello per quel che riguarda l'acqua che continua a scorrere nel fiume. Quindi di conseguenza noi da domani avremo 350 litri in più nell'invaso di Tavernella da poter prelevare. Vediamo quanto reggerà questa situazione senza attivare il Pozzo del Burano, vediamo se regge. Dunque qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di diminuire il rilascio di acqua lungo il fiume ma di lasciarlo vivo ovviamente. Di conseguenza l'acqua continuerà a scorrere lungo il fiume Metauro, ma da domani ne scorreranno 200 litri al secondo in meno perché quelli serviranno per prelevarlo per l'uso domestico, per l'uso potabile.